Salve a tutti, io sono il presidente dell'Anglers Club, mi chiamo Luciano Innocenti, sono qua con Andrea Ferro e Arno Herman che sono gli atleti di punta della nostra società, l'Anglers Club Tubertini, siamo ai due laghi di Lazzise in provincia di Verona per testare un po' di esche artificiali che Tubertini mette in commercio, quindi tenteremo nel limite delle nostre possibilità di catturare qualche trota iridea perché il laghetto è prevalentemente popolato da iridee. Se vogliamo un pochettino vedere quali sono i pregi agonistici dei miei atleti, io li considero i miei perché sono il presidente della società, dirò che Andrea Ferro ha due titoli italiani a coppia, un titolo italiano individuale e un titolo mondiale individuale più tre titoli mondiali a squadre. Arno Herman che è più giovane, ha quattro titoli della categoria giovani di campionato italiano, un titolo di campione italiano individuale, un titolo di campione del mondo individuale e un titolo di campione del mondo a squadre. Il meno blasonato dei tre sono io che ho soltanto due titoli di campionato italiano a squadre. a squadre. a squadre. a squadre. a squadre. a squadre. Iba Tubertini, è una linea di canne che parte dalla 2,10 m arriva fino alla 3 m, in grado di lanciare dai 5 ai 20 g le più leggere, dai 30 ai 60 g le più pesante, adatte chiaramente a pesche come il Lucio o ad altri predatori di una certa mole. Ci concentreremo nell'uso delle 2,40 e delle 2,70, 2,40 per 5,20 in linea di massima, la 2,70 10,30 per poter raggiungere con artificiali piuttosto pesanti una distanza maggiore d'arriva. Come mulinelli utilizzeremo naturalmente dei riobi importati dalla ditta Tubertini e fatti costruire per le esigenze del mercato e dei pescatori italiani. Prevalentemente pescheremo con il nuovo Sauber CM uscito da poco, un ottimo mulinello con un ottimo rapporto peraltro di qualità prezzo. Utilizzeremo altresì il Vertigo che è un pochettino il carro armato della ditta perché è un mulinello che pur avendo tutte le qualità di un ottimo mulinello moderno ha ancora una durevolezza e dei materiali che che consentono a un pescatore di utilizzarlo anni e anni come avveniva una volta. Ed infine il terzo modello che utilizzeremo è il COBE, sempre riobi, nelle misure 2.500 del COBE, 1.500 del Vertigo e nella misura 2.000 e 3.000 dello Sauber. Imbobineremo prevalentemente dello spinner di Tubertini dello 0,16 e mezzo, 16,5. È un bifilo, è un filo che ha la caratteristica di essere formato da due nylon attaccati assieme che gli danno una rigidità particolare. Non si arriva alla rigidità esagerata del trecciato, ma si ha comunque un nylon che ha la caratteristica di essere molto rigido e quindi di consentire ferrate dirette senza avere in queste delle elasticità. Oltre allo spinner del 16,5 utilizzeremo per pesche un pochettino più raffinate se dovremo andare molto fuori o se avremo a che fare con pesci piuttosto svogliati, del Gorilla Micro del 14, del Tatanka Evo ed infine per la pesca molto 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 fine monteremo un terminale di fluorcarbon ON57. Allora, nella pesca con il silicone, che è una pesca che nei laghetti in questo periodo rende particolarmente, perché le trote sono apatiche e quindi c'è la possibilità di presentargli un'esca, se non ferma, quasi ferma, alla quale forse la trota può rispondere meglio, utilizzeremo prevalentemente i mini worm della Seica Tubertini. Allora, sia nell'utilizzo dei mini worm di Tubertini che di altre piccole esche viniliche di gomma, utilizzeremo delle testine autocostruite utilizzando ami importati dalla Tubertini della Hovner. Prevalentemente usiamo gli S74 e gli SP01, ai quali viene montata una girella in testa, una pallina o più palline di tungsteno e, se necessario, del filo di piombo sul gambo. L'utilizzo di questo tipo di ami lo raccomando perché sono affilatissimi, sono ami che danno garanzia trota inferrata, siano con punta cutting point, siano con punta ad affilatura chimica. Sono ami che non ci lasciano a piedi. Quando una trota viene ferrata bene, arriva, arriva. Naturalmente non pescheremo soltanto con le esche viniliche, utilizzeremo anche quelle che vengono definite le esche tradizionali della pesca spinning. Innanzitutto va detto che su artificiali che la Tubertini non produce, quando li utilizziamo montiamo sempre le ancorette ST36 della Hovner. Nella fattispecie però, dato che peschiamo in laghetto, potremo utilizzare tranquillamente delle esche della Tubertini perché ci daranno sicuramente garanzia di successo. Useremo probabilmente più di tutto gli Age Spoon, i nuovi ondulanti della Tubertini che, con soltanto due misure come grandezza, coprono una vastissima gamma di necessità. Il modello piccolo può essere due grammi e mezzo, tre grammi o addirittura solo due. Il modello grande può essere cinque grammi, sette grammi, dieci grammi e anche di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.